in italia tutti gli anni muoiono più di 60 milioni di persone a causa della marijuana le immagini che stanno per seguire sono agghiaccianti consigliamo la visione ad un pubblico adulto basta provarla una sola volta per non smettere più ma quale sono gli effetti della marijuana ecco allora la marijuana quando la fumi ti fa sentire forte vedete in queste immagini come anche maradona si sentiva forte chi fuma una canna di droga come questi due ragazzi è convinto di essere invincibile vedete stanno provando a sollevare un peso maggiore di loro quando poi finisce l'effetto le persone impazziscano in queste immagini vedrete come questi due ragazzi che hanno appena fumato della scisce siano completamente impazziti con soltanto tre pei a girare vedete la disconnessione movimentare vedete la pazia è in loro non sanno più quello che stanno facendo chi fuma uno spinello di droga molto spesso è anche un aduatore di satana perché questa droga ti fa portare verso le vie del diavolo basta una sola dose di marijuana o di ascisce per portare le persone anche a uccidere vedete come questi due ragazzi credano di parlare con quell'albero questi sono gli effetti devastanti delle cellule si stanno bruciando la percezione del mondo diventa surreale incapaci anche di bere un bicchier d'acqua chi fuma droga spesso ascolta cantanti come vasco rossi o persino bob marley o anche marilyn manson o addirittura i black sabbath in molti sono gli artisti che sono morti a causa della marijuana proprio come freddy mercury the queen morto proprio a causa di uno spinello marco ha detto no alla marijuana e alla scisce